Dal server della Regione Lazio all'azienda San Carlo fino alle grandi catene di elettrodomestici, il 2021 si è distinto per un aumento vertiginoso di cyberattacchi. Secondo gli esperti di Jala, startup che produce sistemi di cybersicurezza totalmente made in Italy, l'aumento degli attacchi è stato esponenzialmente accelerato da una condizione straordinaria come la pandemia. Nicola Mugnato, CEO e co-founder di Jala. Esistono due classi principali di attacchi a cui un'azienda può essere sottoposta. Quelli più comuni sono quelli randomici, totalmente casuali, che provengono appunto dalla navigazione su internet, dal phishing, attacchi non targettizzati. Gli altri invece sono quelli mirati e creati appositamente dagli hacker per condividere un'organizzazione specifica o per ottenere un vantaggio specifico da quell'azienda. Nel triennio 2018-2020 si è registrato un incremento del 20% di attacchi rispetto al triennio precedente. Oggi in Italia la cyber security è ancora poco percepita, il rischio di sicurezza da parte degli imprenditori non è ancora percepito. Il motivo per cui investono è normalmente dopo aver ricevuto un incidente. Da questo punto di vista l'Italia in realtà non è molto più indietro rispetto alle altre nazioni europee. Sicuramente non lo è dal punto di vista tecnologico, non abbiamo niente da imparare dagli altri, dobbiamo solo applicare le best practice al più presto possibile.